ciao a tutti oggi prepareremo lo spumano alle fragole il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti più due ore di riposo in freezer ingredienti sono zucchero fragole congelate e albumi diamo il via la ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 veniamo sul fondo del boccale lo zucchero mettiamo le fragole chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo la spatola e facciamo dritare per dieci secondi a velocità 10 spadolando sul fondo del boccale posizioniamo la farfalla spingiamo per bene sul fondo versiamo gli albumi chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per tre minuti a velocità 4 lo spumano alle fragole è pronto trasferiamoli in una ciotola e posizioniamo in freezer per almeno due ore dopodiché serviremo in coppette spumano alle fragole grazie e alla prossima ricetta ins leve a in 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 Autore dei sovrapposti